Volto nuovo della politica procidana, Celeste Mammalella del gruppo di minoranza Procida per Tutti. Far parte del Consiglio Comunale, seppure tra i banchi della minoranza, per me innanzitutto è stata un'esperienza emozionante. Questo grazie soprattutto a tutte le persone che hanno creduto in me, che hanno avuto fiducia in me. Da novella posso dire che oggi posso soprattutto presenziare, ascoltare ed imparare tutti i meccanismi che riguardano la gestione del comune. Nell'ambito della collaborazione con la maggioranza, purtroppo, dato il momento, resta tutto sul tavolo delle intenzioni. Anche se nei primi due consigli comunali, da parte nostra, sono già state fatte delle proposte, vedi l'Albano Francescano, e sulla sanità. Ovviamente ci auguriamo che questo periodo passi al più presto, in modo da poter portare sul tavolo amministrativo le nostre proposte. Ovviamente alla consigliera Mammalella non possiamo chiedere una cosa che riguarda un po' questa situazione che stiamo vivendo. Procida sembra veramente un'isola fantasma, questo Covid, questa seconda ondata. Sì, questa seconda ondata dell'epidemia ha visto Procida maggiormente coinvolta rispetto alla prima ondata, soprattutto per la curva di contagi, che oggi pare fortunatamente che si stia restando. Il mio consiglio da infermiera è quello sempre di usare massima attenzione nell'uso dei dispositivi di protezione, di evitare gli assembramenti e soprattutto di usare un'accurata igiene delle mani in qualunque azione. Per quanto riguarda la questione del Covid, insieme al gruppo consigliare Procida per Tutti, abbiamo organizzato una riunione con i medici di base, dove sono state esposte le varie criticità del momento. Successivamente poi ho partecipato ad una riunione indetta dal sindaco, dove appunto anche lì c'erano i vari medici di base e sono state messe in rilievo tutte le situazioni del momento. Allora, Procida in questo momento ha bisogno di essere, diciamo, tra virgolette tutelata. Abbiamo chiesto l'aiuto del 118, delle strutture sanitarie e dei medici di base. Inoltre si è chiesto anche l'aiuto e l'intervento dell'USCA territoriale, che si occupa praticamente della gestione assistenziale delle persone positive, del monitoraggio della malattia ed anche dell'effettuazione del tampone nel momento in cui la persona non possa raggiungere l'ospedale per praticare il tampone.